la Brinker in questa prima rotazione alla quale andiamo mai verso la fine con la Zimmerman si chiude, la prima rotazione invece alla trave Emilia Armi 12.925 viene ufficializzato, 5.40 di difficoltà e 7.525 di esecuzione Zimmerman, la Jasmin, la Svizzera alla trave molto bene questo salto carpiato in avanti con mezzo avvitamento fasciature per lei sul colpaccio, sul sole, più che altro veramente è un problema di tendine anche per lei come può permane essere, vedete non so quanto possa servire una fasciatura del genere, sinceramente è la prima volta che vedo un tipo di taping fatto così un po' bassa vero? sì parlando di un problema tendineo direi che è un po' bassa come fasciatura ma se molte volte gli atleti secondo me lo fanno anche un po' per questione proprio di testa sembra magari che così ti fa meno male eccetera perché non metterlo insomma anche se poi tecnicamente non funziona ma è molto importante salire sulle atleti sereni tranquilli ricordiamoci che l'aspetto psicologico nella guarigione di un malato è fondamentale ci sto ancora lavorando infatti io prima o poi ce la devo fare non male, doppio evidentemente e mezzo per la Svizzera Jasmin Zimmerman, 17enne da Einberg partecipazione ai mondiali di Stoccarda del 2007 alcuni piazzamenti, alcune finale in Coppa del Mondo come il corpo libero come la faccia tra la partecipazione ai mondiali di Stratu